Ma io voglio dire che Pescara è stata sempre una mamma che ha accolto tutti quanti e ha accolto anche loro, però nell'ottica di un ragionamento di condivisione e di integrazione che non può passare attraverso l'isolamento. Il neon sindaco di Pescara Carlo Masci pensa alla chiusura del mercato multietnico alla stazione sotto il terzo tunnel, auto al posto delle bancarelle con i commercianti per lo più extracomunitari da integrare nei mercati rionali. Il mercatino multietnico è stato inaugurato da poco dall'amministrazione di centro-sinistra ed è partito a singhiozzo con i primi commercianti. I posti sono 99 e una sessantina i venditori che hanno risposto alla domanda per vendere merce nel rispetto delle regole. Rimasto chiuso ieri e l'altro ieri per la fine della Ramadan festeggiata da tanti musulmani presenti nell'area metropolitana e non solo senegalesi, il mercato aveva destato diverse polemiche non solo nel centro-destra ma anche nel Movimento 5 Stelle della precedente amministrazione, vista la spesa a 200 mila euro e vista la possibilità di integrazione degli extracomunitari tra gli ambulanti italiani nei vari quartieri. Ma quel mercato che fine farà? Noi nel programma abbiamo scritto chiaramente che pensiamo che l'integrazione più giusta sia quella che comporta l'inserimento degli ambulanti senegalesi nei mercati rionali insieme agli altri ambulanti. Quel mercatino inserito sotto il sottorilevato ferroviario all'interno dell'area risulta sicuramente non è stata una scelta felice, ma credo che questo lo pensino tutti i pescaresi, anche quelli che non ci hanno votato. Per questo ragioneremo affinché i mercati rionali possano accogliere gli ambulanti senegalesi, come già succede con tanti altri extracomunitari che frequentano normalmente i mercati rionali. E quel sottorilevato dovrà essere, ritengo, utilizzato per la viabilità ordinaria o per un parcheggio o comunque dovrà rientrare nell'ottica di risanamento e di riqualificazione di tutta l'area di risulta. Incontrerà i cittadini extracomunitari senegalesi e non? Se me lo chiederanno assolutamente sì, io sono pronto a incontrare chiunque voglia parlare con il sindaco, quindi certamente avrò tempo per loro, ma lo troverò come lo troverò per tutti i pescaresi, come ho detto, io voglio essere il sindaco che sta in mezzo alla gente, che trova le soluzioni ai problemi, che frequentano la città, che gira, ma penso di farlo da subito come lo sto già facendo, anche se non sono stato ancora proclamato.